delle strutture gestite da privati, per quelle provinciali, ma gestite da un privato, permette di migrati. È successo a Verona, in un hotel, una struttura totalmente privata, un'ordinanza che sequestra la proprietà privata. E questo è un aspetto, però, diciamo, del problema di quello. Non è un aspetto, è un aspetto fondamentale. È un aspetto fondamentale. Però non credo che la protesta fosse per quello, soltanto. Vuol dire che i cittadini dicono, non esiste che tu vieni qua, sul nostro territorio, a fare quello che vuoi addirittura sequestrare strutture gestite o addirittura di totale proprietà privata. Quello è il prossimo passaggio. Arrivano le seconde case. Tanto non servono. Tanto d'estate nei luoghi del mare. Non le usate. Sequestiamo le seconde case. No, Massimiliano, non era questo il cuore della protesta. È fondamentale. Tu non dici quello. Io sto parlando del problema vero. Ma questo è un aspetto. Seconda cosa. Guardi che ho visto decine e decine di volte che ho anche nei paesi della mia regione, Frivenenza e Giulia, che dicevano, ma no, ma arrivano cinque persone. Ma di cosa ti lamenti? Ma cinque persone? Che fastidio che ti diano. E poi invece? Dopo arrivavano venti, dopo trenta, dopo erano quaranta. Cioè lei non si fida, lei non si fida. È sussetto scientificamente così dappertutto. E vuol dire distruggere la comunità. Però mi dici una cosa. Questa è l'unica struttura.